Professor Burioni, buonasera. Allora, diciamo le cose a cui tiene in particolare. Questo virus non è un'influenza, ora è sotto gli occhi di tutti, centinaia di morti. Questo virus non è un'influenza. Possiamo negarlo se vogliamo, ma le cose non cambieranno. Questo virus non è un'influenza. Un'altra cosa che si è sentita dire, e che non è vera, e noi dobbiamo dirlo, è che questo virus non è un'influenza. Non si muore per il coronavirus, ma si muore con una bomba a mano. Ecco, io vorrei fare un esempio. Un signore di 80 anni sta andando a giocare a carte con i suoi amici. Questa persona viene investita da una bomba a mano e la mortalità si alza. Come diciamo da settimane, fare poca vita sociale. Io lo metterei in maniera più drastica. Si esce di casa solo per giocare a carte. Io sento gente dire una frase molto brutta. Ci vorrebbe la bicicletta. Fa una certa impressione. Mi collego per salutare il Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli. Buonasera, Presidente. Buonasera, buonasera. Questo virus non è un'influenza. Vedo collegato il Ministro Speranza. Signor Ministro, grazie intanto e buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ecco, che cosa è successo? Signor Ministro, siamo qua, eh. Grazie, signor Ministro, grazie per la franchezza. Grazie. Arrivederci. Grazie, signor Ministro, davvero, a lei e ai suoi collaboratori. Giovanni Malagò, che ringrazio tantissimo. Buonasera, Presidente. Buonasera a voi. Ciao, bella, complimenti. Grazie. Tesoro, allora, come la vivi? In realtà, in questo momento, paradossalmente, bisognerebbe tutti quanti arrivare ad avere quel senso di responsabilità. Brava. Grazie. Lei mi dica uno sport, eh. Io le racconto esattamente che problemi che ci stanno in quello sport di atleti e di atleti che sono quattro anni che stanno lottando per la qualificazione olimpica e che stanno blocchiati negli aeroporti, che non riescono ad andare a partire per fare le gare e per fare le qualificazioni olimpiche, che non riescono ad raggiungere le squadre che nel frattempo devono andare a perdere competizioni che sono indispensabili. Grazie. Grazie, grazie Presidente Malagò. C'è un'ultima domanda del Professor Burioni che le voleva dire. Questo virus non è un'influenza. Bravo. Abbiamo con noi Sua Eccellenza Mario Del Pigni, arcivescovo di Milano. Questo momento è inutile ascoltarlo. Io ogni mattina in questo periodo di quaresima faccio un piccolo intervento per dire preghiamo per la pace, preghiamo per la pace nel Mali, preghiamo per la pace in Congo, preghiamo per... È una cosa più inutile che si possa fare? Sì. Grazie Eccellenza. Io avrei tre parole da dire, se posso. No. Professor Burioni, posso chiederle di tornare... Questo virus non è un'influenza. Si accomodi. Si può uscire, ci chiedono, per strada? Sì, da soli. Da soli. L'importante è soffrire, purtroppo è molto brutto dirlo. La situazione può diventare endemica, cioè può essere la fine di tutti. Questo virus potrebbe farlo. Questa è una buonissima notizia. Questo potrebbe farlo. Almeno questa terribile avventura ci aiuta a ritrovare un senso di comunità e di, come dire, a superare tutti insieme il senso di isolamento che ci pervade. No, no, quello no, 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 è una sciocchezza che gira, anche in questo caso dobbiamo soffrire, quindi in qualunque caso si muore. Grazie, grazie Professor Burioni, grazie infinite, arrivederci e io a quest'ora non posso fare a meno di fare la donna. Grazie a tutti.